Secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie! Come faccio a togliere la possibilità di mandarmi la richiesta d'amicizia per cortesia? Aspetta! Non venire! No, non vengo! Non è un problema No, ovvio che non è un problema 50 e 50 se riuscivo a piazzarmi rein safe altrimenti... Tanto non possiamo fightare Assolutamente Ti faccio vedere una robetta Niente si rovina tutto, cade tutto, gira tutto Allora Per favore Oh porchio Ci sono? Un momento Caduto tutto Avvicinano di più al suo playstyle Quindi sei uno che killa Ci sarà una quest probabilmente dove ti dice Elimina dieci abbonati... dieci... Eh... Cazzo Alessio il povero Nettuno guardi la minimappa per carità di Gesù Cristo Ok Bravo Nettuno Grazie È tranquillissimo, è nel mega chill Rebuti Nettuno Bravo Nettuno Bene così Nettuno Merda Nettuno Che posizioni abbiamo? Sì Robi sotto Aspetta 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 No ci sono le finestre Aspetta Allora non farei nulla Non ci stanno rompendo Esattamente Esattamente Solamente si rompono Sì Pure inizia la parte bella ci vuole Lo so Pure inizia la parte bella ci vuole Ok Quanti rifai? Due No che in vola è questo! E' giotto in vola! Oh mio dio! Non sento niente Non sento niente No Easy Easy L'esatto E' giallo Uno 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 Non Non Ti Tu Non Tu Mi Non Non Tu 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 Ci in questo momento zara cosa vuole dire ad ardi non voglio immaginarlo ciao cavi in sottolineatura sette mesi ci mancherebbe un giorno parrux grazie dei 7 è un po pazzo è un po pazzo mi sa 200 patetini giusei ciao chiude puoi salutare il mio amico kevin ti vogliamo bella un saluto ai kevin minchia minchia brutto qua se non hai una mobilità arriva la 6 sei morto è possibile con questo lago è impossibile ciao mi viene da vomitare mi viene più divertente ma che schifo che si avvera un dito nel culo non aumenta concentrazione non mi risulta assolutamente questa cosa lei sta mentendo non è assolutamente vero allora io voglio andare a prenderlo intanto ma poi è diventato tutto non mi mettere il dito nel culo ma fino all'altro giorno ti piaceva ma che cazzo dici quando mai no quando l'ho conosciuto gli piaceva il dito nel culo ma non è assolutamente vero questo non mi sono mai fatto mettere ma che cazzo dici soprattutto all'inizio che gli facevo così mi piaceva non ricordo di aver ricevuto il dito nel culo ma non è assolutamente questo provoca eccitamente 18 e 30 fondamentalmente notturno ragazzi dei server è già stato detto che solamente le cose in creativa funzioneranno davvero sì solo le mappe in creativa secondo me per me entrano qualcosa da in creativo da provare Vale pazzo vale pazzo cosa cazzo papà papà vale pazzo vale pazzo vale pazzo arrivato proprio qua 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 novecento pari vale si prego ciò maledì 11 mesi e sono 11 potresti salutare informatica dell'olivetti di ivrea certo saluto la terza b di informatica dell'olivetti di ivrea ciao ragazzi no mi ha fottuto l'unico via scappi nettuno scappi nettuno lei scappi lei scappi lei scappi lei scappi perché tanto in secondo me sto provando io spero che tua madre venga inculata no 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 nezzak no no era nezzak no 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 era nezzak adesso glielo chiedo ne tu no si xiu ha donato delle rosa voldemort si mi dicono si si mi brucio culo mi brucio culo mi brucio culo c'è uno che fa le npc che fa mi brucio culo mi brucio culo se lei se lei se lei mi manda un peperoncino mi brucio culo io lo devo mandare aspetti io lo posso mandare io lo posso mandare io lo posso mandare il video aspetti ok ok buongiorno prugna boss ciao bello come stai buongiorno buongiorno maltenzione io ho otto minuti e dodici di coda ma sarà probabilmente fondamentalmente inutile pratici di queste porcherie se questa è proprio una porca piz ero fermo immobile sull'albero da 3,6 ma non mi stavo proprio muovendo ma e ce ne erano tanti in generale attorno no ce ne erano due ma si facevano i cazzi loro nel nel era kiri mi pare aspetta kiri non è inglese no 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 erano accanto a noi però non notarino no 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 ha messo comunque un applicato di merda quella a pitts si a parte tutto e troppo e troppo un macello sono troppo sbilanciati eh preachers playboy tipo ah playboy uti ho capito come si dice ma sono dei maiali però no però un 321 dal nudo mi hanno sbriciolato non mi sono anche potuto muovere distrutto così proprio perché strano la domanda che faccio è per quale motivo